Questa mattina, ancora sul sito, non sono comparsi i dati ufficiali, non è stato pubblicato il resoconto. La Giunta per le elezioni e le immunità del Senato ha deciso, a larghissima avvangioranza, pare con un solo voto contrario, fra l'altro quando si vota, si vota segretamente, pertanto non si può neanche accertare chi abbia votato in tal senso, perché tutti quanti potrebbero dire ho votato io in quel modo, ma nella segretezza dell'urna non si può accertare. Comunque questa mattina si è votato per impedire che la direzione distrettuale antimafia di Lecce possa utilizzare, per come aveva chiesto, tutte le intercettazioni e tutti i messaggi che intercorrevano fra il senatore eletto con la Lega in provincia di Lecce, Marti, e politici locali in relazione ad una vicenda, mi lasciate dire, molto meschina, molto squallida, relativa all'assegnazione di case popolari a soggetti che in qualche modo non ne avrebbero avuto titolo, viene da pensare magari per ottenere voti oppure per favorire soggetti promiscui a clan locali, insomma questo lo dovrà appurare la magistratura locale, fatto sta che il Senato ha negato questa possibilità, ha quindi concesso pochissime intercettazioni negandone tante e tante altre e questo mi fa star male, come voi capirete mi fa arrabbiare, esattamente come mi ha fatto arrabbiare e per fortuna non sono l'unico ad essermi arrabbiato per questa notizia, ciò che è stato deciso ieri da un'altra commissione del Senato, la commissione contenziosa, che ha deciso di riassegnare il cosiddetto vitalizio all'ex senatore Formigoni e contestualmente di conseguenza anche a Ottaviano del Turco. Che cosa significa questo? Significa che soggetti, sebbene condannati, sebbene per la giustizia italiana non più meritevoli del dovuto rispetto e dunque di quelle prerogative che comunque sono state concesse agli ex parlamentari, questi soggetti siano stati considerati meritevoli non soltanto della restituzione di quello che per noi era un privilegio, ma addirittura della restituzione con gli arretrati dello stesso. Al danno si è aggiunta la beffa e allora, amici, il Senato non può essere questo, dipende soprattutto da noi e dalla capacità di pressione mediatica che riusciremo a fare, perché se le cose rimangono chiuse nel cassetto, se non c'è un'informazione che propone una severa, autentica, impegnata riflessione su queste schifezze, la partitocrazia e dunque la casta continuerà a fare quello che ha sempre fatto, cioè difendere se stessa. E allora dipende da noi e soltanto da noi combattere il privilegio. La politica deve essere servizio e mai privilegio. E quindi Roberto Formigoni deve essere trattato esattamente come tutti gli altri ex parlamentari, al pari dei cittadini. Se ne ha diritto, benissimo, allora il diritto gli deve essere riconosciuto. Ma se non ne ha diritto, non perché il Senato, cioè il Parlamento sia in auto di chi ha, si deve concedere ciò che l'etica, il sentire comune e anche la normativa, insomma, perché era stata votata una norma che avrebbe impedito la corrisponzione del vitalizio. Solo che poi sapete come la vita è molto fluida e molto in movimento e quindi qualcuno ha deciso che potesse nuovamente tornare a disporre di questa erogazione. A me questo non piace perché questo significa che ci sono cittadini di serie A e di serie B e secondo me per la nostra Costituzione dovremmo essere tutti uguali. Prima la forza politica con cui sono stato eletto la pensiamo in questo modo. Io spero che continui a pensarla in questo modo. Fino a prova contraria dovremmo tutti quanti indignarci per queste schifezze, poi magari qualcuno le potrà chiamare aberrazioni, abusi, ipocrisie, scegliete voi il termine più adatto, fatto sta che a mio avviso tutto questo non va bene. Oggi pomeriggio si dovrebbe votare una mozione con cui si chiederà la cessazione dell'embargo a Cuba. Voterò a favore, come spero tanti altri colleghi, perché francamente io mi sento un peracottaro, un falso, un ipocrita, applaudire ai medici che ci vengono inviati dal governo cubano per combattere insieme l'emergenza pandemica. Vi ricorderete che questi medici sono stati inviati nei primissimi giorni di pandemia a marzo del 2020, se non ricordo male, in Lombardia, quindi vari ospedali, Bergamo, al San Lombardo, adesso non ricordo precisamente, ma sono andati là per aiutare medici e infermieri italiani a combattere il coronavirus. Poi però quando si tratta di riconoscere questi meriti, questo impegno, questa umanità che ci è stata offerta, noi con il nostro governo assumiamo un atteggiamento molto molto ipocrita. Ci dimentichiamo che dovremmo nutrirne i loro confronti gratitudine e continuiamo a imporre sanzioni che non hanno più ragione di esistere a nostro avviso. Poi vedremo un pochino che cosa succederà in aula. Oggi si è votato anche a favore della mozione che ha concesso la cittadinanza italiana a Patrick Zacchi. Questo è un altro motivo per cui la giornata, tutto sommato, si può considerare con aspetti di positività. Noi dovremo batterci affinché la verità e dunque la giustizia possano prevalere dappertutto e non soltanto in Italia, perché le schifezze si fanno in tutte le parti del mondo e fin quando ci saranno schifezze, noi esseri umani, se vogliamo poterci guardare allo specchio, dovremo combattere contro queste schifezze e a favore della giustizia. Vi ringrazio, arrivederci.